Gossipitavip, se lo sussurra, lo svegliamo. Giacqueline Luna di Giacomo, in dolce attesa e vicina al parto del suo primo figlio con il cantante ultimo, riflette sul tipo di madre che desidera essere. In una recente intervista, ha espresso il suo desiderio di trasmettere serenità al bambino, sottolineando l'importanza di insegnargli fin da subito il rispetto per le donne. È fondamentale che cresca con valori solidi, e spero di poter essere per lui una guida serena, ha dichiarato Giacqueline. Felice di intraprendere questa nuova avventura come una giovane mamma. Oltre alla maternità, Giacqueline si dedica a un progetto che la vede protagonista, una serie dove guida un gruppo di adolescenti impegnati a proteggere il futuro del pianeta. Sono ottimista riguardo alle nuove generazioni. I ragazzi di oggi sono incredibili, hanno un'energia e una determinazione che mi fanno sperare in un domani migliore, ha raccontato. Tra la gioia della maternità e l'impegno per il cambiamento, Giacqueline affronta il futuro con entusiasmo e fiducia.